Mi chiamo Riccardo, ne ho 69, io ho una società, un'agenzia marittima, trasporti marittimi, a batteria. Diciamo da tanto tempo, solo che non ho mai avuto occasione di frequentare scuole. Quando ero giovane suonavamo così, tanto per dire per diletto, nei complessini si facevano le feste in terrazzo, però poi dopo, con il crescere, con l'iniziare a lavorare, ti sposi e poi lasci perdere. Poi è capitato che un anno fa, purtroppo ho perso mia moglie, allora mi sono ridedicato a quello che più mi è sempre piaciuto, cioè suonare, fare degli sport, eccetera. La batteria mi ha sempre appassionato. Benissimo, veramente sono eccezionali perché tutti riescono a trasmetterti quel feeling che ci vuole per, diciamo, trasmettere quello che senti dentro sulla batteria, perché è una questione di ritmo. Non è mai troppo potabile. Se ha una passione, il tempo lo trova, è senz'altro chi riesce. Se lo sente dentro, riesce ad esternarlo.